Il sindaco dall'Aula è arrivato il sì al bilancio consolidato 2017, come commenta questo voto? In modo estremamente positivo perché è un lavoro che è stato fatto in tempi record per consentire l'assunzione di quasi 300 persone tra l'altro. In un contesto in cui altri promettono solo posti di lavoro noi in piano di riequilibrio, con il debito ingiusto, con i vincoli normativi e finanziari andiamo a assumere tra maestre, poliziotti municipali, operatori sociali circa 300 persone grazie al voto di oggi e a chi ha votato favorevolmente per questa delibera. Quindi si chiude nel migliore dei modi con questa votazione, un autunno molto complicato sul piano finanziario ed economico che abbiamo superato alla grande. Quindi un ringraziamento a tutti quelli che hanno contribuito per questo risultato così importante per la città.